Per il prato sto preparando una cosetta veloce, ora guardate, tonnarello, sempre con i gamberi, con un po' di granella, un po' di piccantuscio, ci faccio il sughetto, ci faccio proprio la pasta e vediamo come viene, guardate che bellezza regà, ho detto mo ci faccio un bel tonnarello, ci lo butto dentro, mettiamo i tonnarelli, intanto li sto togliendo, sto togliendo i gamberi, li sto spostando e ci lascio soltanto il sughetto del gambero che ho preparato, attendiamo che poi, tutti i gamberi li ho messi qua, dopo questi qua li metto sopra la pasta e questo è il sughettino, mamma mia, spostiamo il tonnarello, tutto appannato, bella girata il tonnarello, bello in padella, impiattamento alla pedone, ci abbiamo messo il gambero sopra, ora toccavete però come sono venuti, è il momento di assaggiare, è venuto proprio bene, meno male che il cor piccante stavolta non ho esagerato, ma devo dire che è venuta la fine del mondo regà, che voglio dire, buon pranzo a tutti.